Buon pomeriggio, ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo questa nostra edizione con la pagina della Sanità perché da oggi è obbligatorio esibire il Green Pass per entrare in tutti i 13 ospedali della Sud-Est a partire dall'ospedale San Donato. Vale per tutti i visitatori e accompagnatori. Allo studio la possibilità di estenderlo alle altre strutture della Asla. Parliamo di Green Pass, lo abbiamo accennato noi di Teletruria, in molti ospedali d'Italia è già una misura obbligatoria per entrare nei presidi sanitari. Abbiamo detto anche che voi ci stavate pensando, direttore, l'ultima volta aspettavate il parere favorevole dell'Istituto Superiore di Sanità. Ci sono novità in queste ultime ore? Ieri abbiamo adottato il provvedimento che stabilisce che per i visitatori agli accessi e ai varchi di accesso in ospedale sarà richiesto il Green Pass. Questo cosa vuol dire? Vuol dire proteggere ancora di più le persone che lavorano in ospedale e le persone che all'ospedale si rivolgono per motivi di cura. D'altra parte il 15 scatta l'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e del settore privato, quindi ci pareva una misura assolutamente in linea con le indicazioni nazionali. L'atto deliberativo aveva a decorrenza immediata, quindi da oggi praticamente si stanno adeguando tutti i varchi di accesso in ospedale in cui sarà richiesto il possesso del Green Pass. Chi non ha il Green Pass non entra in ospedale. Tutte le persone che si rivolgono al pronto soccorso o nelle sedi di cura sono sicuramente tutelate e protette e vengono accolte come di norma. Stiamo parlando essenzialmente degli accompagnatori perché le persone che si rivolgono in ospedale per motivi di cura o vanno al pronto soccorso e quindi sono in emergenza e vengono accolti o vanno per esempio al ricovero e quindi in questo caso per entrare al ricovero devono comunque effettuare il tampone. In questo momento la misura è rivolta agli ospedali. Evidentemente è possibile che valutiamo l'estensione, dobbiamo prima verificarne l'efficacia e dobbiamo anche seguire il percorso nazionale. La norma vale per tutti i 13 ospedali dell'azienda ASL Toscana Sud-Est. Voltiamo pagina adesso per parlare di difficoltà burocratiche e prezzi delle materie prime alle stelle. Con Confartigianato abbiamo fatto il punto sul bonus 110%. Elena Bucefari che è il referente super bonus di Confartigianato. È il momento di fare un bilancio anche delle problematiche legate a questo super bonus 110%. Elena, quante sono i cantieri che ad oggi hanno aperto e che voi seguite? I cantieri che stiamo seguendo sono circa 35, in apertura una ventina e appunto 15 che sono già al lavoro se non quasi alla conclusione dei lavori. Le difficoltà maggiori incontrate sono quelle relative a cosa? Al costo dei materiali, ai ritardi? È stato un po' un susseguirsi di difficoltà. La prima è stata quella che noi abbiamo chiamato giungla normativa. Quindi fin dall'inizio la non chiarezza della normativa, del decreto rilancio, così anche tutti i decreti che sono usciti è sicuramente stata una prima difficoltà. Dopodiché siamo passati chiaramente a una seconda difficoltà che ancora troviamo tutti i giorni, che è quella del rincaro dei materiali, che non è chiaramente da poco. Per non parlare poi appunto di questa attesa di proroghe non chiare e non ancora definite. Dal momento in cui c'è un interessamento per una pratica, al momento in cui questa arriva in fondo, si può dare una percentuale di quante realmente poi vanno avanti? Io posso basarvi semplicemente su quelli che sono i lavori che abbiamo in qualche modo analizzato e valutato, dei lavori che sono stati, che sono passati da confartisonato, direi che il 20% sono andati a buon fine. Il 18 ottobre lo sportello bancario di Capolona chiuderà e gli oltre 5.000 abitanti rimarranno senza nessuna filiale. Il sindaco Francesconi ha scritto ai vertici di Intesa San Paolo affinché questa decisione venga revocata ed intanto sono state raccolte anche oltre 250 firme. Si avvicina ormai la data di chiusura dello sportello bancario qui di Capolona. Sono state raccolte oltre 250 firme proprio contro la chiusura e lei è anche scritto ai vertici di Intesa San Paolo. Rimaniamo nella nostra posizione di assoluta non concordia con questa decisione ma assolutamente anche oltremodo perplessi da una decisione che secondo noi per quanto può essere nelle nostre potenziali conoscenze sembra assolutamente assurda. Da un paese che fino a due anni fa, tre anni fa ha avuto anche tre banche nel proprio territorio e tutte e tre funzionanti. Poi per motivi di accorpamento ma non per motivi di poco operatività sono state chiuse le altre due. Questa è una banca storica, uno dei primi sportelli Banca Etruri, anzi Banca Mutua Popolare Retina. Una filiale con una fortissima presenza nel territorio, con tantissimi clienti molto affezionati che certamente negli ultimi tempi, visto probabilmente già l'odore di chiusura, è stata svuotata per renderla ad oggi probabilmente una filiale non tanto significante. La chiusura del sportello bancario a Capolona da parte del Ristituto San Paolo non ha valutato un aspetto fondamentale che è l'aspetto umano. Si ritroveranno molte persone anziane che non sono da un punto di vista tecnologico all'altezza, si troveranno in difficoltà proprio per la gestione pratica e ordinaria di quelli che sono gli aspetti delle operazioni bancarie. Vi raccontiamo adesso una storia, una storia che parla di un investimento nel futuro per reagire alla crisi del lavoro causata dalla pandemia. È la storia di Eros, stagionatore e affinatore di formaggi che ha saputo reinventarsi decidendo di aprire un negozio nel centro storico. La pandemia stava risalendo e ho detto fermi tutti, facciamo qualcosa, altrimenti per sonatare stiamo sul divano a piangere. Eccoci qua. Aprire un'attività in piena pandemia investendo i risparmi di una vita. È la storia di Eros, stagionatore e affinatore di prodotti lattiero caseari, che ha così reagito alla dura crisi imposta dal Covid che nel 2020 ha sospeso anche mercati e fiere con i quali l'ambulante lavorava. Un investimento nel futuro che lo ha portato a diventare anche produttore di formaggi e ad aprire un negozio. Una decisione maturata agli inizi del marzo 2020, a pochi giorni dall'entrata in vigore del primo lockdown. Mi chiamano, mi fanno venne a portarvi a tutto perché l'ultimo weekend della Mossa del Tattufo non si può fare. Finita la mia azienda, finito il mio lavoro, finiti i miei sacrifici di 15 anni, tutto in un attimo. E quindi ho dovuto ricrearmi, ho dovuto reinventarmi in tante cose. Da lì sono passato anche, oltre al stagionare e affinare, come ho sempre fatto anche alla produzione. Una lavorazione nel segno della tradizione. I formaggi infatti vengono prodotti come 100 anni fa. Questa parte qui che è inquadrata in questo momento è proprio la parte che produco io con le mie mani al latte crudo, lavorando ogni mattina con una pentola a 390 litri e un fornello sotto, come si faceva 100 anni fa, nella stessa maniera. E anche tutto quello che io non produco ma che stagione è affino, lo tratto solo o con acqua o con morchia di estravergine nella crosta, per lasciare la totale naturalità del prodotto. 12 progetti rivolti in vari ambiti, tutti ispirati alla creatività giovanile. Nella sede dell'Informa Giovani, presentazione dei progetti vincitori. Presentati dall'assessore alle politiche e giovanili del Comune di Arezzo Federico Scapecchi e dai rappresentanti delle associazioni vincitrici, i nuovi progetti finanziati con il bando Il Comune Ti Coinvolge. Qual è stata la struttura di questo bando e quale è la sua conclusione? Allora, questo è il bando che abbiamo lanciato lo scorso maggio per quanto riguarda i classici contributi che tutti gli anni l'amministrazione comunale dà alle associazioni giovanili per i vari eventi. 20 mila euro erano destinati alla parte estiva, 10 mila alla parte autunnale. Il nostro progetto si definisce l'Aquila per i giovani, l'Aquila della ginnastica Petrarca e si divide in due progetti. Uno è l'apertura di una sezione di ginnastica funzionale e l'altro invece è un progetto rivolto all'inclusione e si concretizza in una giornata di convegno dove si verrà presentato il libro di Francesca Muzzi, giochiamo anche noi l'Italia del calcio dei gay. Il contenuto è particolarmente importante e innovativo, la generazione Z ha 100 anni di Arezzo in foto ed è la fruizione tramite l'operazione sviluppata con i ragazzi delle scuole nella introduzione di una possibilità per i minorati della vista di poter fruire della fotografia. Il progetto Abitazioni è rivolto a giovani della zona fiorentina via Malpighi per coinvolgerli in attività di sostenibilità ambientale e cittadinanza attiva e fare con loro informazione e sensibilizzazione anche agli abitanti delle case popolari. Il concetto da cui partiamo è un concetto di genius locio, ovvero un luogo che abbia un'identità talmente forte in questo caso l'Oratorio di Santi Laurentino e Pergentino, da trasmettere qualcosa soprattutto ai giovani che potranno arrivare dentro di esso attirati da eventi, laboratori e quant'altro. Piero della Francesca morì il giorno della scoperta dell'America. Il 12 ottobre corre l'obbligo di riflettere sull'enorme potenziale che può rappresentare la sua arte per l'intero territorio aretino. Il mondo si affacciava verso la nascita di un nuovo sole con la scoperta dell'America quando Piero della Francesca moriva a Sansepolcro, colpito, secondo Vasari, da una grave malattia agli occhi all'età di 86 anni. Sospesa tra geometria e spiritualità ma anche verismo, nei suoi volti le immagini dei biturgensi così come le vediamo anche oggi, la sua arte è misteriosa come la vita dell'artista che forse più di ogni altro ha cambiato la pittura regalandole la prospettiva. 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo scopriva l'America e Piero moriva nella sua Sansepolcro come attestano documenti ancora visibili. La sua arte divide anche tre centri che a dire il vero dovrebbero pensare ad iniziative in comune. La diatriba tra Arezzo e Sansepolcro è sempre aperta. Al borgo ci sono la resurrezione, dipinto quasi magico capace di incantare Anthony Clark che non bombardò la città ma anzi si precipitò a visitarla ed il politico della misericordia. Ma è anche vero che ad Arezzo c'è la leggenda della vera croce, un ciclo pittorico di forte impatto che più volte ci ha fatto pensare a Piero come l'inventore del 3D. A Monterchi poi c'è la Madonna del Parto, opera unica nel suo genere e sempre al centro di polemiche per la collocazione. La fondazione Piero della Francesca ha per finalità statutarie proprio la promozione di studi e ricerche sull'opera di Piero. Quello che ci preme sottolineare è il fatto però che Piero va considerato patrimonio di un intero territorio che potrebbe puntare su Piero proprio per un turismo di qualità. Chissà che la riflessione non sia già in corso. La riserva Natura 2000 di Monte Ginezzo diventa una residenza per artisti. Si sono concluse le selezioni del premio Land Open Art Museum indetto dalla Cooperativa di Comunità alla Montagna Cortonese. Il progetto LOAM vuole essere un'occasione per portare cultura, idee ed arte in territori remoti ma che mantengono ancora una loro storia, originalità e suggestione. La prima residenza d'artista si terrà dal 16 al 23 ottobre e prevede il soggiorno della durata di una settimana per otto artisti, sia italiani che internazionali, under 30. La giuria, composta da artisti, critici, curatori d'arte e galleristi, ha selezionato i giovani tra le oltre 40 candidature arrivate da tantissime accademi italiane. Questa era la nostra ultima notizia ma prima dei saluti diamo uno sguardo insieme al nostro palinzesto. Questa sera infatti, subito dopo il telegiornale delle 20 e 30, appuntamento con 9 e 10. In questa puntata un focus dedicato alle attività e ai servizi di Acli Arezzo. Farà seguito Ben Godi con Alex Revelli Sorini e Roberto Francini. Quest'oggi si parla di innovazione e creatività. La serata proseguirà poi con cronache e commenti settimanali di informazione sull'attività del Consiglio della Regione Toscana. Ed infine Zorba c'è tanto da fare. Non mi resta dunque che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi un buon proseguimento con i nostri programmi.